Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video benvenuti a tutti gli iscritti del canale ma anche chi guarda questo video per la prima volta io sono Daniele e in questi video parliamo di argomenti sul disegno nel precedente video abbiamo visto una carta artigianale fantastica per Acquirello che andrò a usare comunque nei prossimi video e come al solito per informazioni anche trovate i link qui sotto nelle informazioni per reperire questi prodotti invece in questo video praticamente andiamo a parlare di una bellissima serie di pennelli che ha prodotto la Tintoretto ho avviato una collaborazione appunto con questa azienda che comunque in Italia opera da tanto tempo è una dei leader nel settore dei prodotti, pennelli per belle arti ecc e praticamente mi ha dato la possibilità di provare alcuni prodotti illustreremo quindi questi materiali cercando di venire incontro a tutti quei ragazzi o quelle persone, quegli appassionati che stanno cercando dei buoni prodotti che comunque abbiano delle soluzioni possibili tra virgolette per essere considerati buoni semplicemente perché questi sono prodotti che non costano neanche tantissimo perché vi parlerò di alcuni pennelli che sono comunque sintetici quindi non ci fanno animali di mezzo ma soprattutto essendo comunque anche pennelli sintetici hanno la possibilità di avere prezzi comunque nella norma acquistabili inizio ragazzi facendovi vedere prima di tutto un cofanetto che la Tintoretto mi ha dato che è bellissimo vedete questo qua è molto elegante anche se ci fate la vostra figura se avete il gusto per i buoni materiali questo è un cofanetto che potete cercare su internet cercando cofanetto Tintoretto serie 111 praticamente è un cofanetto con tre scomparti in questo caso se lo apriamo abbiamo una calamita e qui ci vanno i colori vedete che bello naturalmente il cofanetto viene venduto senza i colori poi all'interno ci mettete voi i mezzi godè che vanno all'interno e qui avete la possibilità praticamente di andare a mettere i colori con la tavolozza molto elegante e invece in questo scomparto praticamente col cofanetto vengono messi all'interno tre pennelli questa è la serie 1327 in pelo sintetico che praticamente assomiglia al vaio poi da quanto ho capito vedendo su internet questo cofanetto può essere venduto con i pennelli sintetici o anche con quelli di martora chiaramente il costo si va a elevare un po' però è un cofanetto che fa veramente la sua figura ragazzi all'interno abbiamo dei pennelli che si aprono e si chiudono da viaggio e vediamo l'eleganza di questi pennelli veramente molto buoni ho testato i pennelli sono veramente ottimi e poi ricordiamoci ragazzi che sono pennelli sintetici quindi non stiamo facendo male a nessuno per usarli molto elegante cofanetto tintoretto serie 111 lo trovate sul sito della tintoretto veramente molto buono elegante allora ragazzi partiamo con dei pennelli che mi hanno veramente sorpreso che praticamente sono la serie ideata dalla tintoretto da quello che ho capito in collaborazione con l'acquarellista illustratore Felice Feltracco che è un bravissimo acquarellista che praticamente ha ideato questa serie di pennelli questa serie si chiama 1407 sintetico Vaio Kazan significa che praticamente il pennello va a simulare quella che è l'idea del pelo di Vaio sono rimasto veramente molto colpito non lo dico semplicemente perché sto sponsorizzando questi pennelli lo dico perché praticamente ho trovato un prodotto differente dai classici pennelli che ho trovato in giro sintetici questi pennelli e possiamo anche vederlo dalle stesse immagini che cosa vi offrono? vi offrono la possibilità di avere una punta super precisa che non si sfalda che è una caratteristica molto importante in un pennello questo perché vedete in questo caso quando voi volete realizzare dei dettagli molto affilati cioè come rami degli alberi o capelli e quant'altro vi servono delle linee particolarmente particolarmente precise e dritte se avete un pennello che si sfalda praticamente questa cosa non vi è possibile questi pennelli praticamente sono stati realizzati con la caratteristica prendiamo ad esempio anche il numero 10 vedete con questa buona caratteristica che praticamente vediamo come la classica forma cipolla di un pennello francese come un bombasino perché il bombasino è quello che ha la cannuccia vedete così legata con i ferri e poi il pelo va a estendersi in questo modo però possiamo vedere come praticamente la punta di questo pennello va a sfilarsi fino a diventare finissima questo che cosa significa? significa che anche con un numero 10 noi possiamo andare a realizzare dei dettagli perché la punta ci permette appunto questa possibilità di lavoro vi faccio un semplice esempio citandovi un classico pennello sintetico allora io prendo il numero 2 di questa serie e vediamo cosa faccio se faccio così immaginate che il pennello sta lavorando sulla carta state dando le vostre pennellate vedete come la punta del pennello rimane intatta non si sfalda prendiamo un qualsiasi pennello sintetico buono eh di fascia buona non vi faccio vedere la marca per non sbalutare altre aziende vedete come cosa va a accadere è un pennello che tende a sfaldare la punta questo significa che quando poi andate a scorrere sul foglio vi si apre il pennello e non escono degli effetti buoni invece questi pennelli vedete come la punta anche se vado a fare forte non si sfalda una linea precisissima un effetto veramente interessante il pennello quindi permette di avere una capienza abbastanza ricca di acqua ma nello stesso momento senza poi andare ad intingere molto spesso questo pennello nell'acqua praticamente avete una ricarica di acqua di colore molto prolungata questa si chiama serie 1407 sintetico bio kazan firmata da Felice Feltracco di questa serie abbiamo altri due pennelli cioè altre due serie abbiamo quello con punta allungata che è caratteristico appunto per realizzare i dettagli dall'1 al 5.0 il 5.0 dovrebbe essere quello più piccolo nei prossimi video che io andrò a realizzare comunque vedremo come lavorano questi pennelli poi quello che vi dicevo la convenienza comunque sta che sono pennelli che non costano tantissimo possiamo arrivare dai 5 al massimo 15 euro per pennello quando invece ci sono pennelli in pello di animale che arrivano a costare anche 50 60 euro quindi il mio consiglio quale potrebbe essere dedicato anche a tutti i ragazzi che hanno intenzione o a tutte le persone che hanno intenzione di avere un set di comprarvi quelli che vi possono essere più utili un 3.0 per avere un pennello molto piccolo anche uno 0 un 3 un 8 e un 12 che so e così avete tutta la fascia anche se poi per disegnare vi basta semplicemente un pennello fino o uno un po' più grande di questa serie quindi abbiamo la 1407 abbiamo la 1408 e questo con punta più allungata per fare il dettaglio poi il tintoretto mi ha anche mandato questo qua che è un pennellone enorme in pelo di capra serie 1412 acqua soft sempre firmato felice feltracco un pennello di capra per fare grandi campiture grandi riempimenti il pennello lavora bene la punta non si sfalda ragazzi vedete stesso discorso di prima quando voi andate a stendere la vostra pennellata il pennello lavora bene vi dà un flusso di lavoro corretto e non vi fa snervare perché se i pennelli si iniziano ad aprire iniziate a fare uno schifo questo è molto grande serie 1412 nel cofanetto invece che abbiamo quando voi comprate questo cofanetto praticamente all'interno avete una scelta che potete decidere voi questa serie qua con i pennelli in baglio sintetico si chiama 1327 vediamo il numero 2 ma soprattutto vediamo la comodità che abbiamo con questi pennelli perché li possiamo portare in giro ma sono veramente buoni ottimi l'ultima serie che vi faccio vedere invece è la classica diciamo serie di pennelli sintetici che ripeto alla fine la tintoretto mi ha mandato quindi non posso che ringraziarli perché sono stati molto cordiali è la classica serie 450 con il pelo in fibra sintetica molto buoni anche questi vedete il più piccolino per fare dettagli il più grande per fare delle riempiture cioè delle campiture un po' più grandi molto eleganti come pennelli sicuramente se devo dirvi la verità perché alla fine sono una persona sincera questa qua questa linea è una bomba perché è il miglior pennello sintetico per acquarello che abbia mai provato questi qua sono nella media comunque ci sta nei prossimi video che andrò a realizzare praticamente faremo dei disegni con l'acquarello eccetera usando appunto questi pennelli così possiamo vedere come sul campo questi prodotti funzionano però io che sono un appassionato soprattutto dei prodotti da tantissimi anni da uno a dieci potrei dare un voto a questi pennelli con con un bel nove perché ne vale la pena forse solo i pennelli in pur ovaio della di una marca vabbè che adesso non cito superano questi pennelli però vi sto citando pennelli che costano dai 30 ai 180 euro a pennello questi qua ragazzi se volete il mio consiglio provatene anche solo uno per rendervi conto e vi troverete veramente soddisfatti complimenti da Tintoretto felice Feltracco che ha ideato questi bellissimi pennelli buon lavoro a tutti ciao